Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla regione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze per Itola e code a tratti tra Prato Ovest e il Vivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla FIPILI rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Vernio e Vaiano. Sulla linea Prato-Bologna potranno esserci ritardi variazioni e cancellazioni. La viabilità cittadina sulla Bolognese Vecchia proseguono i lavori della rete idrica con chiusura tra via Bolognese Nuova e via della Lastra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!